Come una vendemmia, le inchieste sui rimborsi collezionano avvisi di garanzia e dimissioni. L'ultimo caduto è il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Rosario Monteleone, segretario regionale dell'Udc, indagato, perpeculato e falso in scrittura privata. Con lui sotto inchiesta ci sono altri dieci consiglieri. La procura di Genova contesta a Monteleone più o meno di aver usato il conto del suo gruppo e della presidenza come un bancomat a manchi di cassa per 120.000 euro fra il 2010 e il 2012. Solo una parte giustificata nei rendiconti. Secondo l'accusa Monteleone si sarebbe creato uno stipendio parallelo. Il suo restava pulito in banca. Monteleone ieri si è presentato a sorpresa in Consiglio e ha chiesto di intervenire. Voi sapete come in questi anni ci siamo comportati, voi sapete l'uso che abbiamo fatto di quei fondi, voi sapete come una modesta persona come me manteneva un gruppo politico del 5% in questa regione, avendo localizzazione e territorialità in tutte e quattro le province. Voi che sapete come si fanno queste cose, sapete con quanto sacrificio, con quante cose queste cose si fanno. Le inchieste hanno coinvolto quasi tutti i consigli regionali. Il caso Fiorito, Erbatman di Roma, condannato a tre anni e quattro mesi, ha provocato la crisi nel Lazio e le dimissioni della Polverini. In Lombardia ci sono una novantina di indagati bipartisan. La procura a novembre chiuderà il caso con le richieste di rinvio a giudizio. Anche a Milano è indagato l'attuale presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo. Nel suo discorso di insediamento ha promesso le dimissioni in caso di una condanna nel processo di primo grado. In Piemonte ci sono 52 consiglieri sotto inchiesta, anche il presidente della regione Cota e il grillino Davide Bono. Poi c'è il caso Emilia. Tutti i capigruppo sono inquisiti dalla procura di Bologna. Si indaga sugli scontrini dei consiglieri e anche sull'ipotesi di contratti di consulenza fasulli. L'elenco delle spese, più o meno come dappertutto, è uno zibaldone. Le voci sono quasi 40 mila, i fondi 5 milioni di euro dal 2010 al 2011. Dalle classiche cene al vino e alle caramelle e agli scontrini dei bagni pubblici da 50 centesimi. Pecunia, non Olet. Grazie.